Un'area nuovamente a rischio. Non è bastato il vincolo di inedificabilità con rispetto paesaggistico imposto dalla soprintendenza nell'aprile di un anno fa. Non è bastato neppure il rispetto di quello stesso vincolo confermato ad aprile 2019 dalla sentenza del Tar Veneto che ha respinto il ricorso presentato dal Fondo Immobiliare. I nuovi proprietari del terreno a ridosso del Castello del Cataio ci provano ancora. Preoccupati i comitati che hanno sostenuto la grandissima mobilitazione del territorio. Preoccupate le aziende agricole. Io dico sempre la soprintendenza è come se fosse intervenuto lo Stato e cosa ha fatto la soprintendenza e questo è quello che ha detto il Tar. In un certo senso ha fatto quello che non sono riusciti a fare gli amministratori. Ha cercato di difendere un territorio. Il vincolo è stato imposto dallo Stato italiano attraverso la soprintendenza tutela di un territorio del maniero cinquecentesco recentemente tornato all'antico splendore. Nonostante questo per il fondo tedesco nuovo proprietario dell'area ci sarebbero gli estremi per tentare la possibilità di costruire quel centro commerciale così osteggiato. Ancora invece ci si ritrova anche in una questione che ormai è partita un quarto di secolo fa. Stiamo parlando di 25 anni ancora a parlare di edificare un mostro, parlano di almeno 12 metri d'altezza, in un'area che invece è, ripeto, soggetta a vincolo. Un'area che sta vivendo una stagione positiva e che sente nuove potenzialità di riflesso dalla fresca nomina patrimonio unesco delle colline del Prosecco. Noi facciamo attività agricola, noi siamo dei viti vinicoltori in un'area di produzione, siamo sotto la docca Oliugane, qui c'è una DOCG che è la fior d'arancio, c'è anche un'altra DOCG che è la DOCG Friularo, c'è tutta una serie di interventi, anche proprio una sinergia che è chiamata OGD, quindi un'organizzazione della gestione della destinazione che vede come petrolio per il nostro territorio, il turismo ci chiede di fare esperienze, ci chiede di venire in zona non solo per assaggiare i nostri prodotti, il vino e tutto quello che si produce in zona ma anche proprio di visitare le nostre bellezze. Grazie.